la dottoressa Giavanzi del Mare Negri Centro di ricerca biomedica che oggi è qui per parlare con voi del centro di ricerca delle opportunità che dà alle ragazze e ai ragazzi di lavorare nell'ambito della ricerca scientifica, quindi voi qui adesso ci sono tanti studenti delle scienze applicate, dello scientifico, qualcuno anche del linguistico, è una cosa molto positiva perché non sempre le ragazze del linguistico si appassionano alle discipline scientifiche, però avervi qui oggi è molto bello, è interessante, è un progresso dell'offerta formativa. Oggi quindi è un incontro sull'orientamento, il club Soroptimist che è rappresentato dalla dottoressa Milandro e dalla professoressa Mussini che abbiamo visto, oh eccola qui davanti non so se vi spiego l'età, gioco a tutti i scherzi a me, è il club di donne che hanno avuto successo nel lavoro e nella professione e che però si vogliono occupare del loro territorio offrendo le loro competenze per lo sviluppo e la crescita del territorio sono qui oggi ed è grazie a loro che abbiamo questa opportunità, che ci giocheremo al meglio. Quindi è un onore per me adesso introdurre la dottoressa Giovanni, ringrazio il club Soroptimist per l'occasione che ci dà e vedremo di far fruttare quest'occasione e tutte le altre che si presenteranno. Grazie mille. Recentemente la dottoressa è diventata la responsabile della ricerca scientifica dell'Istituto Mario Negri di Milano che penso sappiate è uno degli istituti più famoso in Italia per la ricerca, è stato fondato direi circa 50 anni fa dal professor Garantini che recentemente ha compiuto 90 anni ma che sembra una persona valida ed è veramente uno dei poli di ricerca scientifica d'Italia che ci fanno onore in tutto il mondo. Quindi è solo un piacere per noi avere qui la dottoressa. Da che cosa nasce questo essere qui noi stamattina? Donne che dobbiamo parlare soprattutto alle studentesse perché questo è nell'ambito del progetto nazionale che si chiama Si fa STEM. Praticamente stiamo facendo questa campagna a livello proprio di tutti i club italiani che sono circa 150 per favorire che anche le ragazze e non solo i ragazzi possono intraprendere le carriere scientifiche. Perché diciamo un po' semplicemente noi donne non siamo da meno, spesso ci facciamo condizionare fin da bambine dall'ambiente in cui viviamo, ci sentiamo un po' inferiori ai maschi e anche se poi dal punto di vista dello studio e di quello che rendiamo non siamo assolutamente inferiori. Spesso come sapete si intraprendono delle carriere letterarie per le quali ormai c'è più offerta rispetto a quella che è la domanda e spesso c'è una gran difficoltà anche a trovare proprio un lavoro in questo ambiente. Quindi da qui questo nostro progetto che vedrà poi, questo è il primo incontro, a gennaio dovrebbe anche essere qui con noi una studentessa dell'Istituto MIT di Boston che vi parlerà di quello che fa lei in questo istituto e di come è arrivata. Non voglio dilungarmi di più, lascio la parola alla dottoressa e la ringrazio ancora per essere qui con noi. Come diceva la mia povera, questa è un'iniziativa del Soroptimist, però io sinceramente oggi più che da Soroptimista vi parlo da ricercatrice, cioè da una che fa questa professione tutti i giorni. Stem vuol dire scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, quindi una serie di discipline frettamente scientifiche. Già qui io nego la cosa perché le varie discipline, anche scientifiche, vanno trasversalmente con le discipline letterarie. Nel senso che non è che se uno decide di prendere la carriera del matematico piuttosto che dello scienziato deve essere totalmente abuso dalla cultura letteraria, umanistica e linguistica. Anzi, secondo me se uno ha una cultura umanistica e linguistica, come sento qualcuno di voi, sarà un perfetto ingegnere, un perfetto matematico, un perfetto scienziato. Quindi non pensate che ci siano i giorni separati, assolutamente no. È però vero che al giorno, anzi, vi dirò ancora una cosa di più. Io ho fatto il giocentismo, ma francamente dovessi tornare indietro, forse fare il giocentismo classico pur facendo questa attività, perché hai una cultura di base molto forte e molto utile nella tua vita. Quindi tenete presente che se siete dell'attività del linguistico, del classico, o anche se fate una cosa più tecnica, potete lo stesso fare STEM. Questo è fondamentale. È chiaro che però in un mondo che è sicuramente tecnologico e sempre più tecnologico, le discipline STEM rappresentano una delle chiavi dell'educazione e rimane sicuramente alla base di un'educazione che può portare a un internship globale. Per quanto riguarda l'aspetto delle donne, è un po' uno stereotipo nel sistema formativo. Si pensa che le donne abbiano una scarsa attitudine alle discipline STEM e quindi questo conduce a un divario tra i percorsi che conducono gli uomini e i percorsi che conducono le donne. Come dicevo, secondo me questo già non è vero, perché gli stessi percorsi possono essere condotti e portati avanti da donne a uomini. Ancora oggi però si pensa che essere scienziata sia un pochino diverso da essere scienziato, cioè la donna e l'uomo sono diversi. E questo è un sito che cosa ha causato. Io ho provato in questa diapositiva a fare delle riflessioni. Mentre scrivevo ieri ho detto, va bene, perché si pensa che uno scienziato o una scienziata siano diversi? Vedremo dopo che sicuramente non è una questione di studiore, non è una questione di studio. Ripeto ancora, uomini e donne possono camminare sulle stesse strade e prepararsi sulle stesse strade per arrivare a una carriera di tipo stesse. Vi dicevo, ci sono dei pregiudizi culturali, ci sono ancora dei pregiudizi culturali per cui si pensa che per le donne sia piadatta una disciplina umanistica, linguistica e per gli uomini sia piadatta una disciplina più forte, l'ingegnere, il chimico, il fisico. Non è così. Inadeguatezza verso la scienza. Qualcuno di voi si sente, voi siete ragazze tutte le mani, si sente inadeguate verso la scienza. E questo non è vero. Sono veramente delle cose che si pensavano una volta, ma non è solitamente vero. La convinzione che alcuni uomini siano estremamente maschili, di nuovo non è vero. Ci sono, non vedremo, degli ingegneri precedenti, che sono donne. In mio laboratorio c'è stato un sacco di donne. Paura di farcela perché è più complicato. Anche questo sto parlando alle donne e adesso ho scordato. Troppa competitività, assolutamente non vero, lo voglio negare perché le donne riescono ad essere estremamente competitive. L'importante è che non abbiano paura di essere competitive. Le donne possono essere così competitive e anche più competitive in un uomo. Talento, continuità. Ecco, invece è importante l'ambiente culturale, familiare, sociale. Secondo me, se una donna vuole scegliere, io non lo so, mi rendo conto che ci sono tanti anni di differenza tra me e voi. Cioè voi avete vent'anni, io non tanti di più. Ai miei tempi c'era un po' di sciocacismo. Io ricordo che nella mia famiglia hanno fatto tutti, hanno preso tutte delle carriere di tipo umanistico. Io ho voluto fare lo scientifico, poi ho voluto fare in biologia, poi sono andata all'estero in un istituto di eccellenza che si occupava però di disciplina scientifica. i miei genitori me l'hanno sempre permesso, però è stata un po' strana la cosa perché ero una donna e si pensava che avrei fatto legge, lettere, lingue. Invece ho voluto in cappello una disciplina prettamente scientifica. Io non credo che questo sia più il problema delle vostre famiglie, però un pochino di reticenza c'è ancora. Soprattutto se andiamo a pensare, non tanto al fatto di dire faccio il biologo, il biologo in fondo lo vuol fare una donna, ma solo vuol fare il fisico, l'ingegnere. Questa è una domanda diverse volte se fare lo scienziato è diverso rispetto a fare lo scienziata. Poi dopo mi piacerebbe sapere cosa pensate voi di questo. Meno opportunità di lavoro per una donna, meno visibilità, meno badaio. Questo sì, ancora oggi, questa è una cosa che purtroppo c'è ancora, che per una donna ci sono meno opportunità di lavoro. Ma non è che l'opportunità di lavoro sia meno, è che quando tu a un certo punto ti trovi di fronte a un datore di lavoro, ma ancora oggi in certe difficili, soprattutto in certe difficili, effetti ingegneri, fisiche, così, il datore di lavoro tende a dare il posto all'uomo piuttosto che alla donna. E qui dovete fare un valere conto. Meno guadagno, è vero anche questo. Guarda caso, e io adesso lo so, perché io finalmente conosco gli stipendi, fino a un anno fa gli stipendi non li conoscevo, perché non coordinavo per niente, per cui conoscevo il mio stipendio. Adesso che coordino la ricerca di un istituto con 500 persone, gli stipendi li conosco. Ed effettivamente c'è una tendenza a pagare un pochino meglio l'uomo, c'è una tendenza a dare i posti e i vertici all'uomo nel mio settore. Questo è vero. Secondo me, però, tutto quello che vi ho detto, c'è solo un po' di retaggio da pensare che nelle discipline STEM ci sia una differenza tra uomo e donna. Però secondo me rimane un pregiudizio, perché non è assolutamente semplice. Non si deve pensare che le donne siano diverse dagli uomini e quindi sono veramente convincendovi che potete farlo, questo. Ammesso che non siate già convinti. qualcuno parla di cervello. Ho voluto mettervi questo perché l'ho trovato sul sito. Si dice che le donne hanno il cervello più piccolo che l'uomo. È verissimo. Se andiamo a pensare la massa corporea, la massa cerebrale di una donna rispetto all'uomo, è più piccolo. Ma siamo a livello di battuta sui libri. Molto spesso mi senti dire, voi avete il cervello più piccolo. Sto guardando gli uomini, non ci pensate neanche minimamente di dire che una donna c'è vero. È vero. E per fortuna, perché sennò ci avremo una donna con la testa con lì. Ma il contenuto cerebrale non è che essendo più piccolo sia il periodo. Però è pertanto vero effettivamente. Gli studi molto delicati, molto precisi, hanno trovato che ci sono delle connessioni neurali diverse tra i uomini delle donne. Ma non peggiori e migliori. Ci sono delle connessioni diverse. C'è una genetica diversa. Ma al di là della maschera, come l'ho messo qua, di massa e volume, quello che porta sono le sinapsi, le connessioni, i neuroni, che possono essere diversi, ma assolutamente non inferiori. Quindi non è, ripeto ancora, non è un discorso di genere il fatto che una donna sia più o meno portata all'esterno. La donna è portata come l'uomo all'esterno, ma in modo diverso, con del pensiero diverso. D'altronde, la storia, perché noi vediamo ancora oggi che forse ci sono delle donne? Andiamo a vedere perché c'è questa differenza di genere. Abbiamo detto che non è una differenza di cervello, perché il cervello delle donne è eccedente come il cervello dei uomini, con qualche diversità. Allora vedremo anche questo. Però se andiamo indietro nella storia, vediamo quali sono le cause che ci ha portato, che ci portano tra l'altro oggi a fare questo discorso. Perché siamo, ogni tanto mi domando, ma perché siamo qui a fare questo discorso? La storia delle donne nella cultura, nella vita precedente, è stata per molto tempo una storia di immaginazione. Lasciamo perdere il fatto che la donna è da poco che vuolta. In certi paesi non vuolta ancora, perché è la politica. Ma dal punto di vista della cultura, in certi paesi, fino all'inizio del XX secolo, alle ragazze, era concluso l'accesso allo studio, era concluso l'accesso all'università. Per voi è normale, è andata al liceo, è andata all'università, o deciderete di fare un altro lavoro, non ha importanza, ma siete liberati. E nel mondo scientifico ancora peggio. La donna del XX secolo, ai vertici della ricerca, ha fatto notizia. L'uomo non ha fatto notizia. È per questo che c'è ancora questa differenza. E' da questo che nasce questo condivizio, per cui le donne sarebbero meno adatte a determinare città. Guardiamo qua, ho provato ad appogliere, però, una serie di donne che sono diventate importanti nel mondo in sé. Ce ne sono molto di più, adesso quelle così, che mi piacevano, che mi sono simpatiche. La cosa sorprendente è che fanno moltissimo. Ovviamente, per tutti voi conoscete Marie Curie. Per forza. È una storia a sé. Hanno fatto libri, hanno fatto film. Perché una donna, all'inizio del Novecento, è stata in grado innanzitutto di laurearsi. Due lauree. Premio Nobel. Ha scoperto tutto quello che poteva scoprire. Ed è una donna, quindi sorprendente. Ha fatto notizia all'Italia di Montagini. Hanno fatto meno notizia di uomini che hanno raggiunto gli stessi diversi, perché noi abbiamo avuto altri che risolvano in Italia nelle materie effettive. Ma non hanno avuto la stessa notizia. Una donna a Vergi. La Giannetti, che adesso è direttore del CER di Genova. Posizione eccezionale. Certo, sarebbe stata una posizione eccezionale anche per gli uomini. Però per una donna fa una posizione eccezionale. Tenete presente, uomini e donne sono diversi. Le donne, io devo difendere le donne, le donne possono raggiungere i vertici esattamente come i uomini. Le donne e i uomini devono però essere consci che hanno delle attitudini molto diverse, che si comportano in un mondo diverso. Ad esempio, che ho messo in questa deposizione, la donna deve essere consapevole delle proprie caratteristiche. Ma c'è qualcosa che non deve abbruttirsi. Una donna carina deve rimanere una donna carina. Non deve venersi per questo. Ma non deve neanche abbruttirsi, cercare di assomigliare a un uomo. Una donna. Qualcuno, nei ricerziati che avevo mostrato prima, dice, eh sì, quella è fisica, è stata la prima fisica, ma non è una donna. Ma cosa vuol dire? Solo perché andava in giro con i capelli corpi, questo non ha senso. È una donna e rimane donna. La donna deve essere consapevole delle proprie caratteristiche. Secondo me, nel mio settore, la donna è più intuita dell'uomo. Io, vedi, se avevo metto 30 persone nel mio laboratorio che lavoravano con mesi di giorni, ho metto 30 giorni, ma anche 4 uomini. Non è più intuizione la donna. Ha più flessibilità dell'uomo. è molto determinata e secondo me è un pochino di titolazione dell'uomo. Ha delle ottime qualità delle donne. La donna deve mostrare queste donne. L'uomo, in angolo degli altri, è qualità per farlo. Normalmente le donne sono un po' più elucolose, per esempio, nel mio laboratorio. Le donne qualche volta sono entrate, io senza mi metto a piangere più facilmente l'uomo. Ma vedi, è diverso. Quello che voglio dire è che le donne hanno delle caratteristiche, che devono buttare sul piatto. Non mi hanno delle altre caratteristiche, che dovete buttare sul piatto. La donna però non deve scigliottare l'uomo. Se vede che un proprio collega sta avendo successo perché fa una certa cosa, e vede, ma vabbè, non faccio più. No, tiene fuori le proprie caratteristiche. E vedrete che avrete successo allo stesso modo e vedrete che diventerete professori ordinari e non vi limiterete a fare il ricercatore. La ricerca oggi è straordinaria. Vi racconto solo due cose, secondo me, fantastiche. Siamo in un momento fantastico. Uno, il fatto di avere studiato il genoma. Questo ci permette adesso di capire, di conoscere quali sono le alterazioni a livello dei geni. E in conseguenza, se noi riusciamo, questo vale un solo per il cancro, questo vale anche per tantissime altre malattie di tipo genetico, per esempio. Se noi riusciamo a capire, nel cancro, ad esempio, ci sono tanti mutaboni, cioè dei geni che dovrebbero essere normale, sono alterati. E la combinazione di queste alterazioni porta a queste malattie devastanti. Allora, noi adesso abbiamo gli strumenti per conoscere quali sono queste alterazioni. stiamo sfruttando la conoscenza di queste alterazioni, cosa che è successa tutta negli ultimi anni. Tra l'altro, vi dico solo una cosa, se voi fate conto che quando io lavoravo negli Stati Uniti, che si è cominciato a studiare la genetica, per conoscere una mutazione sul genio, ci vorrebbero tre o quattro video, adesso in dieci minuti io dico dove erano attenzione, perché le persone sono accelerate. Una volta scoperte quali sono le alterazioni geniche, quello che noi, tra l'accordo che stiamo facendo, stiamo cercando di identificare come fare per aggiustarlo. Con dei farmaci o con degli altri strumenti. L'ideale è con una terapia genica. E adesso di nuovo c'è uno strumento che permette in pochissimo tempo di una volta conosciuta l'alterazione genica di risarare. Ora, la domanda è, ma perché erano fatte in dieci minuti? Primo perché non conosciamo tutte le mutazioni. Secondo perché non sempre abbiamo il farmaco contro le mutazioni. Ci sono dei casi in cui funzionano benissimo, c'è per esempio un tipo di muore al formone, ma che coinvolge il dieci per cento dei pazienti che ha una certa mutazione per precisa, è stato disegnato un farmaco contro quella mutazione che ha una certa lucemia in questo senso. E quindi uno va al gire. Però purtroppo noi non abbiamo farmaci per tutte le mutazioni. Ma la cosa più un po' che ci fa restare male in certe situazioni è che i tumori sono molto eterogeni. Per cui noi, sì, riconosciamo le mutazioni, ma quando abbiamo 10, 20, 30, 40, 50 mutazioni non sappiamo dove metterci le mutazioni. E quindi stiamo studiando a volte cercare di capire se ne diminuiamo o poche in modo di poter agire. Si sta lavorando a livello di terapia per cercare di sostituire queste mutazioni. Però vi dico che è straordinario perché conosciamo talmente tanto che per certe malattie siamo riusciti a curare. L'altra cosa ancora più straordinaria riguarda le risposte immunitarie. Cioè si è capito come fare. Si è capito che noi, dentro di noi, abbiamo delle cellule dell'ospite, abbiamo una risposta che si chiama risposte immunitarie che teoricamente sarebbe in grado di abbattere qualcosa, di controllarlo. Fino a qualche anno non fare. Non eravamo in grado di attivarla. Oggi abbiamo capito come fare. Perché il sistema militario era regresso. Cioè non era in grado di far fuori, in un certo naturale, di controllare il progetto. Negli ultimi anni, il primo nome è stato dato quest'anno, certo Alesson, è detto quest'anno. Lui ha capito che c'era come fare a riattivare la risposta dell'ospite e quindi attaccare l'ospite. E questo è straordinario perché sono stati inventati dei farmaci. Per questo vengono utilizzati in certe patologie. Di nuovo, non è che comiamo tutto, però ci sono dei tumori, e non ho regola a dirlo, tipo il melanoma. Alcuni melanomi, alcuni tumori di nuovo del polmone, che con questa terapia guariscono. Non dico curati, non dico guariscono. Quindi però queste due strade sono veramente negli ultimi due o tre anni che sono eccitanti. Eccitanti perché dopo un momento di stanno si vede che si cominciano a camminare verso dei risultati. Io non voglio illudere nessuno, c'è ancora tantissimo da fare. Non sono curati, questo lo dico perché lo so che anche io ho dei casi personali, molto vicini, di persone che non sono in grado di curare, non sono in grado di dirvi cosa fare. Ma ne ho altre tante che sono state, sono state veramente curate. Stiamo andando avanti, grazie. 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 Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.